Nazionali Marco Paglialunga e Alessandro Bruni in occasione del Regional Day. Vediamo. Sono 23 le promesse della pallavolo Umbra tra i 14 e i 16 anni ad essere state esaminate da due tecnici nazionali Alessandro Bruni e Marco Paglialunga al Regional Day tenutosi al palazzetto dello sport di Cannara. L'incontro previsto dal programma di qualificazione 2014 per il settore femminile nazionale ha visto la partecipazione di Giuseppe Lomorno e Luciano Tardioli, presidenti rispettivamente della FIPAV regionale dell'Umbria e di quella provinciale di Perugia. Una giornata molto importante per l'Umbria come per tutte le regioni italiane e la definita Lomorno, occasione per mostrare il lavoro svolto dalle 100 società umbre impegnate nel settore giovanile e da tutti i tecnici del territorio. Prima dell'allenamento, momento in cui i tecnici nazionali hanno potuto valutare le ragazze, si è tenuto un confronto tra allenatori nazionali e locali, occasione per sottolineare i criteri della selezione regionale e discutere sulle linee guida del lavoro di coach. Questi appuntamenti hanno una duplice valenza, da una parte quella selettiva per quello che riguarda la nazionale, dall'altro è comunque una giornata di qualificazione per il territorio. Sull'aspetto selettivo cerchiamo ovviamente capacità tecniche che sono alla base del controllo del gioco e dall'altra anche qualità antropometriche, quindi altezza, che comunque sono caratteristiche da cui per certi versi non si può prescindere se non in alcuni ruoli per quello che riguarda la pallavolo di alto livello.